Non so come ringraziarlo veramente perché mi ha cambiato veramente la vita. Il mio percorso è iniziato che mi è venuta la fiorea, sono andata dagli dentisti italiani, tutti mi volevano mettere, anzi mi hanno messo la protesi mobile, però purtroppo non ce la facevo a portarla. Guardando tanto su Facebook eccetera ho visto lì del dottor Palmas e non so come ringraziarlo veramente perché mi ha cambiato veramente la vita. Appena sono arrivata avevo un attimo paura, però c'è stato degli assistenti che mi ha messo a mio agio, io non ho sentito assolutamente nulla, io mi sono accorta che aveva finito perché mettevano i punti, ma se no ho già finito, proprio mi sembrava un sogno ecco e non male assolutamente zero. La vita mi è cambiata ecco, veramente tanto. Sono andata a casa, mangiavo di tutto proprio, non vedevo l'ora di mangiarmi le cose che non potevo mangiare quando ero senza denti, se andavo in giro mi toccava tenermi la mano davanti perché proprio mi vergognavo. Infatti le mie figlie mi dicevano dai che andiamo a mangiare fuori, no no io non posso venire, adesso invece vado tranquillamente e non mi devo vergognare ecco, assolutamente. Ho cambiato tanto anche la mia vita insomma perché si va in giro, insomma si può ridere, grazie qua posso ancora sorridere e basta insomma. I miei figli appena che vi hanno visto si sono messi a piangere, ma io te lo sembri anche te, veramente non sembrava neanche io, mi ha cambiato proprio la fisionomia, mi ha cambiato tutto insomma ecco.